Ronaldo, benvenuto a Novara, un viaggio lungo, quello dal Brasile che ti ha portato qui. Sei il quinto brasiliano della storia del Novara Calcio. Quali sono le tue prime impressioni? Ciao a tutti, le mie prime impressioni sono bellissime. Sono arrivato in una società molto seria, che ha un centro sportivo bellissimo e speriamo che sia un anno bello e felice per tutti. Mister Corini giocava nel tuo ruolo, insomma, qualcosina può insegnarti? Ah, quello sicuramente. Quest'anno avrò tanto da imparare da lui. Quali sono le tue qualità? Noi ti conosciamo, però, per i tifosi che magari ti hanno visto poche volte da avversario. No, va bene, le mie qualità sono un play. Diciamo che la qualità è la cosa che si vede di più. Calci bene le punizioni, insomma, sei un'arma in più anche da fermo. Sì, possiamo dire di sì. I compagni, conosci qualcuno? Che gruppo ti aspetta di trovare? No, penso che troverò un gruppo bello unito. Ho già giocato con Calderoni e Pacini e niente, adesso non vedo l'ora di iniziare a allenarmi con loro. Vedendo il Novara da fuori, da avversario, che idea ti sei fatto della società? No, vabbè, chi gioca contro il Novara lo sa bene che comunque è sempre una squadra che lotta per stare nelle parti alte della classifica.